La situazione è drammatica sulle casse integrazioni in deroga, non solo il ministro dichiara che mancano le risorse ma le regioni sono in grandissima difficoltà perché noi non abbiamo pagato nemmeno la cassa integrazione di chi ne aveva diritto da gennaio e non per cattiva volontà nostra, ma perché il ministro non ci ha dato i soldi nemmeno quelli che doveva darci fin dall'inizio dell'anno. Nel 2013 la cassa integrazione in Veneto ha dato risposte a oltre 85.000 lavoratori e 16.000 aziende in difficoltà e le risorse della cassa gestite dalla regione sono state di 138.683.000 euro. Al 30 giugno 2014 invece sono quasi 8.000 le aziende che hanno richiesto la cassa in deroga e 39.517 i lavoratori e le famiglie che non stanno percependo indennità. La Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali ha siglato dunque l'accordo ponte che proroga fino al 31 agosto 2014 le disposizioni contenute nell'accordo quadro dell'anno precedente. Un'operazione però più difficile di quella dello scorso anno. Oggi abbiamo chiuso un accordo sofferto con le parti sociali di proroga di ulteriori due mesi. In questi due mesi continuiamo a ricevere le domande delle aziende che necessitano di cassa integrazione ma con la grande incognita delle risorse e anche delle modalità. Con la proroga dell'accordo dunque le imprese venete potranno richiedere un periodo di cassa integrazione per i propri lavoratori per una durata massima di 8 mesi e non oltre il 31 agosto 2014. La cifra che la nostra regione attende per le sue imprese e i lavoratori più volte promessa dal governo è di 38.895.000 euro. Abbiamo veramente un governo e un ministero che pare non sappiano come funzionino le cose non nella periferia dell'impero ma nelle aziende.